Oggi il 24 gennaio, pace bene a tutti, benvenuti a questo nostro piccolo momento in cui ricordiamo i Santi. Quello di oggi è San Francesco di Sal. Ascoltiamo la sua storia. Francesco nasce nel 1567 a Toran, in Savoia, da Francesco, conte di Sales, e da Francesca, di Sionà. Completa i suoi studi di retorica, filosofia e teologia presso i padri gesuiti. Già sensibile alla vocazione sacerdotale, viene mandato dal padre a Padova per addottorarsi in legge. A 18 anni vive una forte crisi dell'anima, che trova consolazione solo nell'amore di Dio. Attraverso lo studio di San Tommaso d'Aquino e di Sant'Agostino, Francesco ha la conferma dalla sua vocazione sacerdotale. Riceve gli ordini minori, il diaconato tre mesi più tardi e il sacerdozio, dopo altri tre mesi. Di lui, San Gregorio Nazian Seno avrebbe detto «Egli era prete prima di essere prete». Da canonico, Francesco predica per le strade e nelle piazze, con parole semplici e comprensibili da tutti, perché era desideroso di far conoscere e amare Gesù e recuperare quante più possibili anime a Cristo, salvaguardando la cristianità in un periodo in cui perseverava la riforma di Calvino. Trascorre molto tempo nel confessionale, dona soccorso ai poveri e visita gli ammalati, indignando in questo modo il padre, che lo voleva predicatore con citazioni latine e greche. Si fa missionario percorrendo le strade del Chiablese, non curandosi delle intemperie, delle notti senza rifugio o degli avversari che poteva incontrare durante il suo percorso. La sua preoccupazione era la salvezza delle anime e la conversione dei calvinisti a Gesù. Quando la sua predicazione incontrava degli ostacoli, Francesco non rinunciava a diffondere la parola di Dio anche attraverso volantini e manifesti, che affiggeva i muri, faceva scorrere sotto le porte delle case chiuse al suo richiamo. Per questo motivo diventerà patrono dei pubblicisti. A 32 anni, Francesco diviene celebre per le conversioni nel Chiablese, tanto che il papa Clemente VIII, a Roma, davanti ad un folto gruppo di vescovi e di cardinali, si fa raccontare l'avventura da Francesco stesso. Il papa lo consacrerà a Vescovo. Francesco organizza scuole di catechismo e lui stesso diviene catechista dei bambini. Esorta i preti a darsi da fare mettendosi al servizio di parroci e parrocchiani. Provvede alla formazione del clero. Attira la folla con i suoi colloqui, la sua carità e la sua parola forte, e prudente allo stesso tempo. Si rivolgeva a tutti, incominciando dalla donna, che per Francesco è per natura una innamorata di Dio. Dice, non ditemi che sono un grande predicatore, ma ditemi, se lo sono, che sono buono, servo di Gesù e delle anime. Affermava e spiegava che la santità è per tutti. Va vissuta nella vita quotidiana, nella vita di tutti. Francesco amava l'uomo, perché amava follemente Dio, e aveva fiducia nell'uomo, redento da Cristo. Francesco di Sal, nel 1610, fonda con Santa Giovanna de Chantal l'Ordine della Visitazione di Santa Maria, un ordine religioso femminile che diffonderà tra le giovani. Alla base di tutto, Francesco pone la confessione e la comunione settimanale, e i sacramenti che santificano tutti. Quella forza che lo animava per convertire più anime possibili a Cristo, lo accompagnerà fino alla fine. muore nel 1622, ha solo 55 anni. Nel 1655, Papa Alessandro VII lo proclama santo. Nel 1877, Pio IX lo proclama dottore della Chiesa. San Francesco di Sal, uomo dalle grandi virtù, è diventato e considerato da parte della Chiesa come il patrono dei giornalisti e dei pubblicisti, proprio per questa idea che lui ebbe di iniziare ad usare il volantinaggio o dei manifesti per diffondere il messaggio di speranza e il messaggio di vita di Gesù Cristo. Proprio nel contesto di oggi, in cui ognuno ha la possibilità di poter fare del volantinaggio, pensiamo alla potenza di internet, alla potenza dei social, ognuno può fare il suo post, che è il nome nuovo del volantino, del manifesto, in cui può esprimere un contenuto di bellezza e di positività. E allora invochiamo San Francesco dei Sal, proprio in questo contesto, affinché ognuno di noi possa avere la consapevolezza della potenza di questo strumento, e possa avere anche il discernimento per usarlo per il bene di tutti, diffondendo messaggi di pace, di bellezza e di amore e non di odio né di vendetta né di espressione di una sorta di negatività. Proprio per questo ci affidiamo a San Francesco ricordando anche quello che diceva Padre Pio, in particolare ai giornalisti. Rifletti su quello che scrivi, perché il Signore te ne chiederà conto. Stai attento, giornalista, ammonisce in maniera seria, ma anche simpatica. Il Signore ti dia le soddisfazioni che desideri per il tuo ministero. È l'augurio che facciamo a tutti, proprio quando cerchiamo di comunicare agli altri la nostra fede. Non abbiamo paura di utilizzare tutti i metodi possibili e ci affidiamo anche all'intercessione di San Francesco di Sal che invochiamo chiedendo San Francesco di Sal prega per noi.